Formattazione condizionale e grafici Sparkline rapidi. Allora, per fare questo dobbiamo avere una base dati di questo tipo e dobbiamo trasformare in un oggetto tabella. Quindi se non lo sapete fare, si seleziona la base dati, si va nel menu Inserisci, Tabelle e si clicca sull'oggetto Tabella. Una volta fatto questo, in alto a destra sul menu comparirà il menu Struttura Tabella, perché è stato trasformato in un oggetto. A questo punto basterà fare clic destro su un punto qualsiasi della tabella e troveremo il bottoncino Analisi Rapida attivo. Lo clicchiamo, compare questo menu in basso, ecco la formatazione. Se noi passiamo sopra possiamo creare una formatazione condizionale automatica. Clicchiamo ed ecco è che lui l'ha applicata. Raggiungiamo i grafici Sparkline, stessa procedura, tasto destro, Analisi Rapida, Grafici Sparkline. Qui possiamo scegliere tra linea, colonna, positivi e negativi. Scegliamo linea ed ecco che avremo creato un grafico con un andamento dei valori che sono posti sulla sinistra.